Dobbiamo fare una cosa piccolina ma fondamentale, la consegna dei soldini per la biobanca. Dove andate voi due? I soldini per la biobanca sono tutto. Ecco, quindi ci dovrebbe essere un piccolo pezzettino di carta che però, aspettate che posso leggere? Sono 301.628.000 euro. Grazie. E non sono quelli lì, grandi, grossi, che vedete, che sembrano un po' finti. Questo è piccolino, sono quelli veri. Quello che ho visto oggi ci dà ancora più voglia di fare questo tipo di finanziamenti e devo dire che al di là della partenza la nostra intenzione è quella di continuare nei prossimi anni a supportare AISL, a supportare anche i costi che serviranno, servirà a supportare per portare avanti questa biobanca. Io oggi ho conosciuto una realtà che non conoscevo, che emoziona perché in effetti un ambiente scientifico così importante deve essere di orgoglio per tutta l'Italia. E credo che se, come stiamo cercando di fare, le aziende, le grandi organizzazioni si avvicineranno ancora di più al mondo scientifico e nell'interesse comune che evidentemente c'è, credo che si potranno fare in una logica di squadra insieme tante cose ancora. E le persone che poi sono alla base di tutto questo che ho conosciuto oggi sono veramente eccezionali. Grazie. Grazie.